Sono andato all'altro capo del mondo pensando che così avrei avuto modo di riflettere. Perché vorrei tanto farmi perdonare. E l'unica persona che può aiutarmi sei tu. È esattamente quello che mi aspetto. Buonanotte. Signorina Bassi. Mi piace Davide. E' solo una curiosità. Di che segno mi hai detto che sei? Non te l'ho mai detto. Vuol dire che abbiamo gli stessi gusti. Non è che potrei andare. Non è che potrei averlo io. Ma perché il mio fa le picchie. Mi piace dal primo momento che tu ho visto. Mi piace. C'è un molto da fare. Se hai bisogno di parlare. Ma non con te. Posso parlarti? Buonanotte. Buonanotte. Non so che stanotte lui mi sorrideva e io gli davo una mamma mia. E quanto se la tira? In cosa consiste questo tuo tour di Parigi? Segui. Segui. Credo che le stelle ce le abbiano con me per quanto sia stato uno stupido lasciatacare. Ci sono coppie che non riescono a trovarsi mai. E neanche una dell'intera. Grazie. Every little thing that you do Baby, I'm amazed by you Baby, I'm amazed by you